insomma, adesso se avete voglia, prima di alzarci, direi una storia però un problema, da solo non sono capaci, ho bisogno del vostro aiuto è in inglese no, no, tranquilli, prendo solo l'inizio il titolo c'è un capo, c'è un capo ci sono ci sono legati un libro non è vero, non ci sono non ci sono gatti, è la prima pagina e neanche quella successiva però, nel cioccolare dei gatti ci sono i colori diversi, i nomi e le dimensioni anche diverse adesso leggo i nomi il gatto blu si chiama Moon Pie quello rosso si chiama e quello giallo si chiama e quello giallo si chiama l'avevo detto che non c'erano i gatti sì sì e dove sono? e dove sono? no ciao 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 chi accetta? noi siamo bambini lei si chiamano lei si chiama Sara io mi chiamo Emma lei? Io mi chiamo Emma lei? Io mi chiamo Emma Allora, andiamo avanti, se no non riusciamo più a finire la storia, perché c'è una cosa importante da sapere, prima di andare avanti, siete simpatici, sì, mi sembra ho detto tanto, più forte, però la cosa importante è, siete forti, sì, ci si dà lì. Abbiamo un problema, non siamo capaci, dici capaci, eh sì, perché c'è un filo che si è incastrato, io da sola non ce la faccio con gli altri, nemmeno mi prendo, volete aiutarmi, vediamo tutti insieme, forza, prendete il filo, tira, 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 bravissimi, sì, mi sono intorpolato io, ma a me non importa, hai visto un grande sacerdote, è pieno di gomitoli di lana, mi piacciono un sacco i gomitoli di lana, Tira lì, tira lì, tira lì, tira lì! Ma non è così forte di un sacco il nano, è stato bello, eh? Vuoi che torniamo indietro? No, grazie, no, 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 non è buon di l'arco che bello, ci sono delle scapole, tagliate che devo vedere? Vedete però, immaginate, tira subito. Sì, sembra una nave spaziale, aprite i boccoporti, bellissimo, sì, è tutto buio, io ho paura, aprite mi piace, adesso sì che si sta comodi, ma avete visto cosa ce n'è là? Sì, facciamo una battaglia, ti puoi uscire, pronti? Ho detto via, è stato divertente anche se ho mal di testa. Gira pagina che ho fame, gira, 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 ma c'è anche l'ondaio! Oh, grazie ci avete salvato la vita, sì però sono un po' bagnante, bisogna che ci sudiamo, basta soffiare. Oh, mi sento tutto morbido, non sapevo che eravate simpatici. Non sapevo che eravate simpatici, non sapevo che eravate simpatici, non sapevo che eravate simpatici. Ho un po' di sole. Eh sì, è ora di tornare sotto la coperta, ma poi, bacino che non voglio. Un ultimo piacere, ci tiriamo sulla coperta per far guardare. Oh, ma mi raccomando, eh, che è da trovarci presto. Molto presto. Buona notte. Buona notte. E così finisce la storia. Bella. Grazie.